La titolazione di questo corso è Antropologia della salute, biosfere e sistemi di cura. È l'etichetta della unica cattedra UNESCO presente nell'Ateneo genovese. L'idea di questo corso nasce dalla presenza in Genova di questo unicum, di questo museo dedicato alle culture mediche delle popolazioni e del mondo. Questo patrimonio raccolto nel corso dei numerosi viaggi da parte di Antonio Scarpa, un medico curioso di vedere come le varie popolazioni curavano, prevenivano, classificavano le malattie. Ora, poiché questo museo tra breve si trasferirà in una nuova sede, abbiamo voluto documentare la situazione attuale così come Scarpa la volle e come unitamente al mio maestro abbiamo esposto gli oggetti e li abbiamo anche documentati con brevi didascalie. Lo scopo ultimo non è solo quello di far conoscere queste strane usanze, queste strane credenze, queste strane terapie, ma anche di vedere se dal punto di vista dell'analisi scientifica è possibile capire come queste popolazioni hanno effettivamente utilizzato delle pratiche e anche delle sostanze che in taluni casi hanno superato anche la prova scientifica occidentale. Inoltre, con questo corso vogliamo mettere in evidenza come natura e cultura sono due facce della medesima medaglia. Non possiamo studiare Homo sapiens esclusivamente dal punto di vista culturale o esclusivamente dal punto di vista biologico, in quanto queste due componenti si compenetrano, si influenzano e proprio in un museo di etnomedicina emerge questa unione tra biologia e cultura. Grazie. 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 Grazie.